io ho un ospite un appassionato di treni ed ora dopo aver visto questo questo video frank97 ci parlerà delle precedenti versioni di train simulator a te la linea ed ora dopo aver visto e domanda frank97 ci parlerà delle precedenti versioni di train simuletro ma che cosa sia guardate c'è una mucca in casa io l'ho fatta ma versione fu perchè scompare il testo con un'ottima grafica ed ora passiamo alla parola più presto la prima versione di train simulator è il momento di passare la parola al nostro 27 che ci parlerà delle precedenti versioni di train simulator perchè no è giusto no te borrà no mi sei n'uscito la parola al nostro frank97 che ci parlerà non sono tuo non dici nostro a frank97 che ci parlerà delle precedenti è il momento di passare la parola a frank97 no un minuto è giunto basta è molto più successo è molto più successo grazie a tutti grazie a tutti